Fatto il record, record battuto. A neanche una settimana dall'impresa di Gil Pintarelli e William Boffelli, autori del primato di traversata delle 13 cime del gruppo Hortless Cevedale, un must dell'alpinismo lombardo, con il tempo di 7 ore e 50 minuti, ci hanno pensato Robert Antonioli, campione del mondo di sci-alpinismo, e Andrea Prandi, altra stella dello ski-alp, a siglare domenica scorsa il nuovo tempo da record. 13 cime in 6 ore, 52 minuti e 56 secondi, per un percorso di 37 chilometri e di 4.000 metri di dislivello positivo a fil di cielo. Siamo partiti da Santa Caterina-Valfurva per risalire dalla parte frontale il 3-0, che è la prima cima che si tocca durante questo giro, per poi concatenare tutte le altre 13 cime, fino ad arrivare al punto più alto della traversata, che è il Cevedale, per poi ridiscendere ancora dalla Valle delle Rosole, passando per il rifugio Branca e arrivando a Santa Caterina-Valfurva. Praticamente una passeggiata di salute, un percorso che per buona parte si sviluppa sui 3.300 metri sopra il livello del mare. L'idea è nata da Andrea Prandi, che durante questa quarantena e sapendo che non si potevano fare gare durante l'estate, gli è avuto in mente questa prova, questo giro, che già precedentemente io avevo fatto insieme a Stefano Confortola, il rifugista del rifugio Branca, e quella volta lì avevamo messo 9 ore e 50 a fare tutto il giro. Un percorso affrontato con molta velocità e che assume il sapore di una vittoria particolare. Questa volta siamo partiti molto convinti, sapevamo che le condizioni del percorso erano molto buone e quindi si poteva fare ancora qualcosina meglio. Andrea Prandi ha tirato insieme un bel cinema, ha organizzato tutta la gente sul percorso per avere assistenza sul percorso, per non incappare in qualche incidente e ad avere gente che poteva intervenire in caso di caduta o simile. Un percorso affrontato con molta velocità e che assume il sapore di una vittoria particolare. Un Andrea Prandi che lui è un 22enne, ma ha contato voglia di far fatica, lui è appena uscito l'anno scorso da una grave malattia, da un tumore che ha colpito il sistema linfatico, e purtroppo l'anno precedente ha perso tanto tempo sia di allenamenti che di vita proprio in sé. Adesso c'era una gran voglia di recuperare tutto il tempo perso, infatti si è visto anche sulle 13 cime come spingeva il ritmo e come affrontava la salita con tenacia. E se la traversata delle 13 cime del gruppo Hortless Cevedale, con tutto il suo straordinario panorama di bellezza incontaminata, vi incuriosisce, sappiate che la traversata non è un affare solo per Superman. Bivaccando in due o tre giorni, usufruendo del pernottamento nei rifugi e in compagnia di una guida, tutto diventa più semplice. Grazie a tutti.